Il Movimento 5 Stelle ha evitato di polemizzare sulla scelta di Giorgia Meloni di rimediare al debito lasciato da un gruppo di turisti italiani in un ristorante albanese. Giuseppe Conte le chiede però di saldare un conto molto più salato. Il leader del movimento punta infatti il dito sui circa 2 miliardi di estragettito accantonati dal governo, tre giorni più frenetici di partenza e rientro dalle vacanze. Un tesoretto accumulato grazie all'IVA e alle accise sul carburante che, se calcolato da inizio anno, viene stimato intorno ai 4 miliardi di euro. Conte lo definisce un bottino sottratto indebitamente ai cittadini che va restituito e siccome si avvicina alla sessione di manovra manda un avvertimento politico alla leader del centrodestra non provare a trincerarti dietro la necessità di utilizzare questo estragettito per il taglio del cuneo fiscale. Quest'ultima è una misura già prevista che va resa strutturale e che non può essere finanziata con questa appropriazione in debita fatta sulla pelle dei cittadini. Mantenere, se possibile, ampliare il taglio del cuneo per le retribuzioni fino a 35 mila euro sarà uno degli obiettivi della seconda legge di bilancio dell'esecutivo Meloni. Dopo un primo chiarimento alla ripresa dei lavori ci sarà un nuovo confronto sulle modifiche che Forza Italia vuole apportare al decreto in Parlamento. Deducibilità, una tantum, esclusione delle piccole banche dal provvedimento. I punti cruciali ribaditi da Tagliani che ha assicurato che non c'è stata alcuna pressione dai figli di Silvio Berlusconi su un provvedimento che riguarderà anche Mediolanum.